Tragedia sfiorata questa mattina in via Vittorio Emanuele a Canicattì, dove intorno alle 10.30 un pezzo di calcinaccio si è staccato da un palazzo ferendo un passante. Da quanto si è potuto apprendere dai vicini che hanno assistito alla vicenda, il pezzo di calcinaccio avrebbe colpito la spalla dell'uomo. I vicini sono dunque accorsi subito in aiuto e hanno subito chiamato l'ambulanza che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale. Il pezzo di muro è finito anche su una macchina parcheggiata in prossimità del palazzo che ha subito ingenti danni al tetto e al vetro posteriore. Sul posto sono subito giunti la polizia municipale che ha provveduto a transennare il luogo dell'accaduto e i vigili del fuoco. Per fortuna non si è registrato nessun altro danno anche perché fortunatamente all'interno dell'autoveicolo parcheggiato non c'era nessuno e il fatto non è accaduto nel giorno del mercato settimanale, giorno in cui la strada è sicuramente molto più transitata. C'è adesso da capire di chi sono le responsabilità, i motivi delle condizioni pericolanti dell'edificio e per quale motivo il Comune non aveva avviato provvedimenti di messa in sicurezza dell'edificio stesso.